Ciao e benvenuto alla rubrica Il Maestro risponde. Mi chiamo Carlo Ferrari e sono restauratore antiquario da 30 anni. Sono il fondatore e direttore di ArtedelRestauro.it, il sito di riferimento in Italia per gli appassionati di restauro e antiquariato. E sul sito puoi trovare decine e decine di articoli gratuiti, libri e book di approfondimento sul restauro del mobile e la storia del mobile antico. Trovi anche i corsi online e le date dei corsi dal vivo che io tengo nel mio laboratorio di Milano. Rispondo oggi alla domanda di Carla relativa alla coloritura dello stucco di gesso. Carla mi chiede, come faccio a colorare lo stucco di gesso per non far vedere le stuccature chiare sotto la verniciatura? Innanzitutto vediamo insieme che cos'è lo stucco di gesso, come si prepara e come si colora. Lo stucco di gesso è uno stucco naturale che noi usiamo nel restauro dei mobili antichi per fare piccole stuccature oppure rasature di superfici. Altri stucchi naturali che noi usiamo nel restauro sono lo stucco di legno e lo stucco di cera che avremo modo di vedere e approfondire nei prossimi video. Cosa ci serve per preparare lo stucco di gesso? Ci serve il gesso di Bologna, ci serve dell'acqua, della colla e le terre colorate. Una domanda che mi viene posta di frequente durante i miei corsi dal vivo è posso usare lo stucco che trovo già pronto in vendita nei colorifici? Certamente sì, possiamo usare lo stucco che troviamo già pronto nei colorifici ma dobbiamo comunque imparare questo passaggio, cioè colorare lo stucco con le terre colorate perché i colori che troviamo in commercio difficilmente vanno bene sul mobile che stiamo restaurando. Usiamo una superficie che non assorba l'acqua, un pezzo di marmo oppure una piastrella di ceramica vanno benissimo. Mettiamo su questa superficie il gesso di Bologna e ti ricordo che quando prepariamo dello stucco colorato dobbiamo prepararne a sufficienza per tutte le stuccature che dobbiamo fare sul nostro mobile. È abbastanza difficile infatti poi riprodurre lo stesso colore se rimaniamo senza. Aggiungiamo al gesso di Bologna le terre colorate. Io di solito uso 3-4 terre, sicuramente sempre un giallo, poi un rosso, un bruno chiaro e a volte dobbiamo usare anche un bruno scuro quando dobbiamo stuccare dei legni particolarmente scuri. Mescoliamo le terre nel nostro gesso di Bologna e poi aggiungiamo l'acqua. Non riesco a darti delle percentuali esatte, né per l'acqua né per la colla perché a seconda della temperatura dell'ambiente, a seconda della stagione, il gesso tenderà ad asciugare più o meno velocemente. Mentre stucchiamo possiamo aggiungere l'acqua per tenere lo stucco sempre a una certa morbidezza in modo da poterlo lavorare bene con la spatola. Quando abbiamo amalgamato l'acqua nelle nostre terre aggiungiamo una punta di colla. Che colla usiamo per preparare lo stucco di gesso? Se stiamo restaurando un mobile molto antico e stiamo usando una colla a caldo possiamo usare la colla a caldo. Se invece stiamo restaurando un mobile più recente oppure non abbiamo sotto mano della colla a caldo possiamo benissimo usare anche della colla vinilica. Una punta di colla vinilica ci serve giusto per far stare insieme le terre. Non abbondare con la colla quando prepari lo stucco di gesso perché otterresti uno stucco troppo duro, troppo resistente alla carteggiatura. Per sapere se lo stucco che abbiamo preparato è del colore giusto per il mobile che stiamo restaurando dobbiamo fare una prova, una piccola prova. Mettiamo dello stucco sulla superficie, lo asciughiamo e poi con un pennellino bagnato con dell'alcol oppure dell'acqua bagniamo lo stucco e vediamo effettivamente il colore che abbiamo ottenuto. Quando restauro un mobile preparo due colori, uno per le parti più chiare, uno per le parti più scure. Ma se stiamo restaurando un mobile che ha molte essenze di legno sulla sua superficie oppure ci sono delle radiche, tieni presente che possiamo arrivare a preparare anche 4-5 colori e creiamo una vera e propria tavolozza di stucchi di gesso in cui andremo a stuccare tutte le parti del nostro mobile al fine di ottenere delle stuccature che una volta carteggiato, una volta dato il colore e poi lucidato il mobile, lo stucco che abbiamo usato non si vede. Scopri come fare, colorare e usare lo stucco di gesso sul prontuario del restauratore. Il prontuario del restauratore è il mio manuale dove ti svelo passo dopo passo tutti i passaggi per un corretto restauro del mobile antico. Prossimamente puoi vedere tutto il restauro del mobile passo dopo passo nel mio nuovo corso online Restaurare è facile che troverai su artedelrestauro.it che ti invito a visitare. Ti ringrazio per essere stato con me e ti do appuntamento al prossimo video del Maestro Risponde.